Música 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 Ah no, qui se l'ha fatto giusto, vai! Il minuto oggi è basta Ma dove è esce? Anzi, non fa senza niente, non vogliamo tutto Grazie per la visione Guardate signore e signori 22 km orari In una curva normalissima Qua ci fermiamo? Quasi quasi dai Grazie 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 The Grazie 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 era una pizza ciao 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 a tutti i prezzi sono come pizzerà no scherzo al contrario eccoci arrivati a il villaggio Malbuto dove stranamente intrancio ha preso confidenza una minota un bar e un ristorante molto conosciuto pensate che a un tempo questa è stata una casa vacante della luce di venito fa freschino e ci sono 15 gradi per essere a ottobre in realtà è caldo rispetto agli anni passati ecco qua il tralcio tra un po' si fa tamponare guardate 20 Kmh e ci riaggiorniamo tra un attimo rieccoci di nuovo abbiamo tolto di mezzo ho tolto di mezzo il tralcio quindi possiamo fare qualcosa in più adesso adesso abbiamo già passato villaggio Mascuto anche villaggio raggise stiamo andando verso località Pantane tra qualche pulpa c'è un bel ventilineo dove potremo esprimerci un pochettino eccolo qua qui sempre attenzione perché ecco come immaginavo ci sono i rincoglioniti con le macchine in mezzo alla strada è entrata un pochettino nel casco mannaggia la miseria speriamo non mi vada nell'orecchio dai quando mi fermo dopo lo tolto adesso andiamo a trovare il mio amico il mio amico il mio amico che lavora qui in un ristorante non lo vedo da tanto tempo un po' 10 sera allora vediamo se non c'è nessuna pattuglia potremmo tentare una sparata vediamo vediamo qui non c'è nessuno no c'è il cane in mezzo alla strada figa mi impesso dai poverini si scherza come sempre no adesso si rigiro e facciamo la sparata eccoci qua mi giro mettiamo un po' di gasse se non mi investe una macchina passiamo guardiamo diciamo vediamo vediamo view ed eccoci arrivati